La cosa bella di quest'anno è proprio aver avuto il coraggio di mantenere una parte in presenza di questo festival. Io ho in mente dietro le mascherine gli occhi dei nostri collaboratori al momento in cui abbiamo deciso questa formula mista, ma soprattutto abbiamo deciso che non avremmo mancato l'appuntamento di Treviso quest'anno. Credo che questo sia un grande segno e una grande opportunità perché utilizzando gli strumenti del digitale e della tecnologia noi oggi mettiamo molte più persone di quelle che potevamo prevedere a disposizione dei nostri contenuti perché il Festival della Statistica è un grande evento di organizzazione ma è un grande evento di contenuti.